Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it. Il problema dell'irraggiamento solare è un problema serio e a volte difficile da risolvere, soprattutto quando abbiamo delle grandi vetrate come in questo caso. In questo caso ho avuto un problema proprio nella mia azienda dove abbiamo installato queste due nuove postazioni e dove il caldo che arrivava da queste vetrate, dove il sole che andava a riflettere contro il monitor e che andava a surriscaldare le persone che lavoravano in queste postazioni, era diventato insopportabile. Giro questo video alle 12 e 35. Il sole è praticamente dritto. Nel pomeriggio il sole che inizia poi ad andare verso dove si inclina e raggiunge le postazioni qua di dietro. Come risolvere? Avevo installato dei vetri di controllo solare ma nonostante la selettività dei vetri il caldo era insopportabile e il riflesso nei monitor era qualcosa che rendeva veramente difficile lavorare. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo trovato delle tende integrate installate all'interno di queste vetrate che nemmeno si vedono e sono completamente integrate. Io posso andare a schermare, a filtrare la luce. Ho deciso quale grado di filtrazione, potevano essere anche blackout, quindi potevano anche fare buio totalmente e posso andare a regolare l'apertura. Quindi hanno una modularità incredibile. Vedete? Faccio qualcosa di veramente comodo. E la cosa bella è che al contrario delle altre tende che sono sempre nel mezzo, sbattono, queste si muovono insieme alla finestra. Queste si muovono insieme alla finestra o banalmente insieme alla porta. Questo rende possibile risolvere un problema in maniera efficace e anche con un prodotto molto bello perché si integra perfettamente con la finestra e si muove insieme ad essa. Spero questo video ti è stato utile per trovare una soluzione. Se hai bisogno di consulenza per l'irraggiamento solare per le tue nuove finestre puoi andare su www.blogguigiacchi.it e richiedere la tua consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video!